Un alleggerimento del karma, miracolo. Centro spirituale frattocchie, attraverso flora, a cura di VB, guida. Il nostro spirito è Dio, è parte di Dio, perché Dio ci ha generati con la sua luce di vitalità. Allo spirito si attribuisce il pensiero che può muoversi a velocità incredibile, materialmente inconcepibile, e lo spirito può camminare di pari passo con esso. L'individualità incarnata, che pur avendo in sé la limitata possibilità di procedere nella vita terrena con opere e pensieri dettati dal libero arbitrio, deve, nell'insieme degli intenti, camminare secondo le modalità e le possibilità di quanto è stato programmato prima della discesa nella materia. Per eliminare le scorie, o meglio, per alleggerire le proprie colpe, lo spirito, pur essendo sempre presente, rimane in contatto con l'essere tramite la coscienza e si fa quasi da parte lasciando il posto al divenire e al verificarsi delle azioni karmiche. Dio sa della nostra carne che è pesantezza di materia, che è colpevole di tante afosità, di tante oscurità e di quello che sente la materia, e quindi lascia che si compia quanto è stato programmato, salvo qualche evidente intervento con un alleggerimento del karma miracolo, quando vede l'impossibilità di conseguire ciò e quando non è più necessaria la dolorosa espiazione. Quando si compie un'azione contraria a rendere lo spirito luminoso, determinata da una variante posta nella programmazione di quanto assunto come programma, nell'istante dell'esplicarsi dell'azione, subentra il libero arbitrio della materia e l'anima dunque si appesantisce. Grazie a tutti.